musica weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi e mettere un pochettino in ordine le idee su tutte queste cose che stanno venendo fuori soprattutto in questo finale di stagione parlo ovviamente di tutti gli starter pack i prime pack gli extra pack i va fan pack insomma ragazzi tutte quelle skin extra che sono all'esterno del gioco e che possono essere ottenute ovviamente secondo alcuni accorgimenti che dobbiamo obbligatoriamente come dire soddisfare per poterle ricevere si è parlato tantissimo ragazzi in questa season numero 5 della mancanza del twitch prime pack sembrerebbe davvero ragazzi che non arriverà il nostro tanto amato prime pack lo abbiamo cercato pertanto abbiamo cercato in tutti i modi di trovarne qualcuno ne sono usciti tantissimi skin che erano più o meno delle fan art più o meno dei concept purtroppo è confermato ragazzi nella season numero 5 non ci sarà lo il pack del prime peccato ma ragazzi non dobbiamo disperare perché noi per pc possiamo disperare perché non abbia niente di interessante ma per gli utenti di playstation e per gli utenti di xbox ovviamente anche per gli utenti di quei ragazzi che hanno acquistato il tab a e il note 9 ci sono delle skin extra che adesso andremo a vedere prima di andare a vederla ragazzi volevo un attimo soffermarmi con voi un secondo su un'immagine che avevo vi avevo anche mostrato un paio di giorni fa che è stata inserita dentro un casolare di passatempi pomposi e che ragazzi ci mostra un easter eggs molto molto interessante per chi ha la ps4 e ben presto otterrà la nuova skin che vi ragazzi vi ricordo si chiamerà the ace lasso in poche parole prima di andare a farvela vedere in randvalo in gigante come sono mio solito fare volevo mostrarvi in gioco qual era la location giusta per andare a dare una sbirciatina poi ragazzi io ve lo consiglio sempre quando siete in giro per fortnite che magari sono quei momenti morti tra un fight e l'altro non lasciate mai nessun angolo al caso ragazzi andate a vedere in tutti gli anfratti nelle casette dietro i mobili raga potrebbero inserire da un momento all'altro degli elementi che potreste voi essere i primi in italia a scoprire che sarebbe veramente una figata pazzesca ci stiamo buttando ragazzi a passatempi pomposi davanti a me c'è il punto di atterraggio che non è altro che quel casolare che contiene il trattore adesso non ricordo deve essere questo sì perché c'ha dentro la casa ma il trattore c'è 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 e questo è questo guardate se noi ragazzi andiamo qua guardate sul trattore cosa c'è vediamo se trovo un'arma per farvelo vedere bene Dammi un'arma, dammi un'arma, dammi subito un'arma Devo far vedere ai miei ragazzi questa cosa Non ci posso credere, ci sono solo gli cittadini Dammi solo un secondo che recupera la mitraglia Attenzione ragazzi, guarda qua, guarda qua Andiamo col mitraglione che non avrà un grande zoom Ma che comunque potrà farvi vedere ragazzi I mega easter eggs che è stato pubblicato qualche giorno fa Praticamente un poster rotto ragazzi Sullo schienale del trattore Vigliaca, che fatica è a vederlo Lo vedete ragazzi quel poster lì Quel poster lì ragazzi non è altro ragazzi miei Che questa immagine è qua 3, 2, 1 Scandrall Eccolo qua ragazzi, eccolo qua Guardate, guardate Questa ragazzi è la nuova skin Che si chiama, no vedete sarà un po' difficile Vai vedere più o meno gli assomigli Cioè è lei, non è che gli assomiglia E questa nel senso È la skin The Ace ragazzi La nuova, una delle nuovissime Andiamo giù con la corso automatica Intanto siamo in parco giochi Una delle nuovissime skin Disponibili per i possessori Di PS4 Quindi vi serve obbligatoriamente La Playstation Per ottenere questa skin Ragazzi molto molto carina Molto molto interessante Intanto noi abbiamo Fortnite aperto Direi che vale la pena chiuderlo Però chissà che cacchio succede La rivediamo ragazzi In una maniera un pochettino più Completa Eccola ragazzi La skin The Ace Che a parer mio Sebbene io non apprezzi le skin femminili Secondo me è tanta tanta roba Molto bella ragazzi Molto interessante Molto carina Ed insieme Alla skin The Ace Viene fornito ragazzi anche Il suo backpack Eccolo qua ragazzi Molto molto carino Molto colorato Contiene Dei soldi Con sopra Il lama ragazzi Quindi Qualcosa sicuramente di Inerente Al grano Non sappiamo bene perché Si sa però anche Che con la skin Completa di backpack Verranno dati anche Dei V-Bucks Per i possessori Di PS4 Ma ragazzi Se invece avete Un abbonamento Plus Di PS4 Attenzione perché i regali Non sono finiti Sgraal Eccolo qua ragazzi Una scia Per voi Gratis Esclusiva Solamente Perché avete Il plus Su PS4 E tra l'altro ragazzi Vi mostro anche Un video Recuperato Come vedete Da FBN Sulla LX Dei Twitter Che vi mostra ragazzi La scia In azione Eccola qua ragazzi Molto molto bella Molto molto carina Niente di eccezionale Ma divertente Vedere quattro colori Su tutti e quattro Gli arti Del nostro giocatore Poi qua faceva vedere Altre cose Che non ce ne frega Assolutamente niente Nuova scia Disponibile Per i possessori Di plus E non è finito Ancora ragazzi Oltre alla scia Ragazzi Otterrete anche Sgrank Il Deltaplano Molto molto simile A quello uscito Per i mondiali Non so se vi ricordate Ragazzi che avevano messo Il deltaplano Quello che fa così Praticamente Perché sbarlucica tutto Con gli occhi Non ricordo il nome Con esattezza Del deltaplano Ma questo A me non piace Sinceramente Comunque è un nuovo Deltaplano Mentre molto più bello Ragazzi Il piccone Che invece Vi verrà assegnato Se siete Possessori di PS4 Dell'abbonamento Plus Insieme ai due oggetti Precedenti E insieme Alla skin Di Ace Ma attenzione ragazzi Perché se invece Avete l'abbonamento Gold Di Xbox Non dovete disperare Dentro nei file Di gioco ragazzi Sembrerebbe Che ci sia anche Questa skin Ragazzi L'avevamo già vista Qualche giorno fa Insieme Si chiama Grill Surgeon Sergente Del grill In poche parole Stiamo vedendo Lo spaccato Quello era il corpo Questa è la testa Ragazzi Che vanno a completare Eccolo qua Il grill Surgeon Molto molto bello Una mia Una skin che mi piace Davvero tantissimo E mi piacerebbe Incontrarmi con qualcuno Di voi Che ha l'Xbox E non la vuole La voglio io La voglio io Loggo con il mio account Da voi Vi prego Molto molto carino Molto molto carino Insomma ragazzi Tanta roba interessante Per tutte queste Ultime Settimane Di Fortnite Che dovrebbero vedere Appunto Arrivare Queste skin Lace Il Surgeon Griller Ovviamente I possessori Di Galaxy Note 9 E Tab S A Otterranno invece Lo sapete La skin Galaxy Con un bel Completo Di 15000 V-Bucks Beh ragazzi Spero di essere stato Abbastanza esaustivo E che questo video Vi sia ovviamente Piaciuto Quindi vi ringrazio Tantissimo Per averlo guardato Vi ricordo Che sono in vacanza Quindi ragazzi La mattina Alle 2 e un quarto Troverete il video Dello shop Alle ore 8 del mattino 7 e mezza 8 Troverete sempre Il video delle news Mentre la live La spostiamo Dalle 13 Alle 16 Noi Ci vediamo presto Ciao Ciao Grazie a tutti